Ciao ragazzi, questo video è delicato al mio compleanno sono sudato perchè oggi si è il 2 di luglio non so quando si carica il video ma penso subito il giorno è di 2 luglio però lo saprete di già i regali dovevano appendere uno perchè un altro è la bici con mezzi soldi una mountain bike e poi ho preso una cosa che mi piaceva tanto, mi fa vedere non tanto, però ho visto una svistatina, è tutto perchè il film di Nemo mi ha risaluito all'infanzia una cosa carissimissimissimissima oh sono queste vedete come bellino ve lo dito alla ricetta di Dory cioè perchè non ce l'avevo che mi ha messo era rotto tutto questo non è così non era così qui ci sono i big money li ho messi di l'alcoli che c'ho però questi sono pochi cioè pochi 100 euro quel che sono non è un grande invece di là ce l'ho 1000 e 2000 vabbè io sto leggendo con questa cosa la fotocomera sto leggendo indovinate qua sotto ora cosa con cosa sto leggendo io posso vedere questo è il corpo di Cristo sembra questo qui il coperchio di quello sembra per i pezzi a pezzi basta fare il buro comunque bellissimo poi oggi vado sempre a comprare il gioco di valentino lo city game che farò anche uno spacchettamento stasera perchè lo compro oggi farò sempre in video e la bici non so in che video farvela vedere ma sai questa marca delle pagine è conosciuta state tranquilli è cric rock dopo che stavo vedendo è proprio sopra che ma voi cosa avete da fare cosa ditemi se vi è piaciuta la canzone di quella lì che ho inventato dite ditemi assurdo come se vi è piaciuta queste cose oh già troppo caldo oh yes sono sono uguali i denti che alla pringo ora i denti cioè non i denti però i peccini li fate sempre senza glutine guardate speriamo che non casca perché sto reggendo sto reggendo con la mano quindi e di là c'ho quelle piccanti che non posso aprire perché non è che non posso aprirle ma perché non vuoi aprirle perché sennò si 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 buon giugio a cosa ciao a tutti raga